Power and Glory, ovvero la storia di Romano Rizzi e di Teleponte di Legno, è il progetto del regista montatore Angelo Maffioletti che verrà proiettato in prima soluta al Cinema Alpi di Temu questa domenica 1 maggio alle 20.30. L'impegno che Maffioletti ha messo in questi anni a ricostruire la storia unica nel suo genere di Romano è incommiabile sia sul piano del documentario televisivo che su quello umano e sociale perché di fatto rende giustizia la figura di un personaggio geniale e non inquadrabile in ruoli e situazioni usuali. Romano fu un precursore e un innovatore e a modo suo fu anche un prototipo di youtuber moderno senza censure e senza paura. Nel 1968 dove aver installato a sue spese antenne in tutta l'alta Valle Camoni che aveva reso visibili tantissimi canali Rai 2, Rai 3 e Mediaset su tutti Romano Rizzi si accogge di aver creato delle nuove frequenze con canali liberi su cui poter trasmettere. A partire da metà degli anni 80 dunque crea la sua personalissima tv, quattro ore al giorno e digirato senza nessun taglio, dove veniva trasmesso un resoconto della sua giornata passata in giro per i paesi dell'alta Valle fra incontri di ogni genere e sue considerazioni, pensieri, affermazioni in diretta e ad alta voce. Tutte le riprese televisive venivano effettuate a mano e con continui zoom facendo di Romano un precursore dello stile moderno. Il 24 aprile 2017 all'età di 80 anni si spegneva quella voce scomoda e seguitissima in Alta Valle Camonica a seguito di una malattia che lo aveva affiaccato negli ultimi mesi togliendogli anche la sua creatura, la tv verità On The Road. La sua televisione però gli è sopravvissuta e nonostante un nuovo cambio di tecnologia che ha rischiato di far cessare per sempre le trasmissioni della piccola emittente, oggi l'attività continua che nel sostegno degli enti del territorio, nel ricordo di colui che aveva iniziato con una videocamera, qualche pellicola e uno studio ricavato in un garage. Di lui tutti ricordano la grande dignità nel lavoro che lo aveva portato a rifiutare importanti sponsorizzazioni per rimanere indipendente e fedele alla linea della cronaca. Ora Power & Glory, il documentario di Angelo Maffioletti, ricostruisce con maniacale fedeltà lo spirito del pioniere della tv verità On The Road di cui oggi è impossibile ma anche anacronistico trovare uguali. In attesa di poterlo vedere e gustare sulle nuove frequenze di teleponte, i più fortunati potranno assistere alla serata della prima assoluta, domenica 1 maggio al Cinema Alpi di Temù.